Ciao a tutti ragazzi, sono Andri da Lo Star di Lespe, le FIFA www.lespef.it, un pochino a Facebook in descrizione e sono qui oggi con il quarto episodio di Leopold Prediction. Abbiamo cambiato la grafica, speriamo che vi piacere, era Brad Moon, quindi se non vi è piaciuta rivolgitevi a lui, se vi è piaciuta dite che è merito mio. E niente, abbiamo seguito i consigli vostri del video di una settimana fa, circa, quello in cui c'era anche Green Goose e voi avete chiesto a 5 giocatori e noi abbiamo accontentato le nostre richieste facendo Quadrado, Giorvigno, Kaijon, DiPai e Turbe con l'ultimo che ovviamente è transfer alla Roma. Comunque, partiamo subito dall'esterno-destra della Fiorentina che sta collezionando una stagione fantastica o po' l'altra, l'ultima in particolare è stata veramente molto buona, 82 per roll, forse con la maglia della Fiorentina, se no chissà, 94 velocità più 1, 91 dribbling più 4, 70 di tiro del 66, ma soprattutto 5 stelle ski, il dimensio segmento, se secondo voi se le merita o no, perché io ero indiesi da 4-5. Secondo giocatore è Giorvigno, Giorvigno, 88 velocità, 82 dribbling, 67 di tiro, 72 di passaggio, 49 di difesa e 54 di testa, queste le stelle siate quest'anno. Il prossimo anno avrebbe un più 3 velocità, più 2 nel tiro, più 4 passaggio, più 3 nel dribbling, più 1 di difesa e più 1 di testa. Non ho aumentato di tanto il tiro perché comunque il tiro non è la specialità di Giorvigno, diciamo che ha dimostrato di essere un dribblatore e soprattutto uno molto molto veloce, migliore rispetto a quello che si era visto all'Arsenal. 4 stelle ski, 3 stelle bene debole, Warcats è medio-basso e l'overall che viene ammontato di 2 e la sua carta che diventa rara. Il demensio segmento ovviamente se si è d'accordo o no, sia con lui, sia per esempio con Kaijon. Kaijon era partito da 75 e aveva ricevuto una versione upgrade a 79 dai COC e pensiamo, penso, che il prossimo anno andrà a 80 o anche 81 sempre dai COC, quindi penso che il ruolo rimarrà lo stesso della sua versione upgrade. Più 0 velocità perché 90 mi sembrava un valore giusto e i dribbling più 5 senza dubbi perché 70 è troppo poco, aumenti discreti in tiro e passaggio perché comunque 69 di tiro per uno che ha fatto tutti quei gol per poco Italia, cioè il campionato, poi 70 di passaggio e 64 anche questo mi sembra giusto, 4 stelle bene debole perché 2 stelle all'inizio possono vedere, 4 stelle ski perché se uno non si le merita Warcats è molto meglio. Il prossimo giocatore è D-Pai, D-Pai secondo me passerà da argento ad oro, più 1 velocità perché comunque è un valore già buono, più 2 nel tiro, più 4 nel passaggio, più 4 nel dribbling, più 3, più 3, più destra. A Mondiale ha fatto vedere grandi cose, anche la sua stagione con PSV è stata ottima, infatti lei ha anche uccidato nel team of the season. 4 stelle ski, 4 stelle bene debole che potrebbero anche essere 5 stelle ski perché comunque è un giocatore che nel dribbling usa molto delle finte, quindi le 5 stelle ski per lui non sono esclose, diciamo che sia lui che quadrato, rende il risultato a mettere 4 o 5, alla fine ho messo 4 a lui e 5 quadrato. Passaggio che ho messo solo più 4 perché comunque non è che di solito si riesce con più 10 ma secondo me anche a 70 o giù lì potrebbe andare. Quinto ed ultimo giocatore è i turbo, il turbo è trasferito dal Verona alla Roma e senza dubbio riceverà un grande upgrade, fino a 78 o 79 massimo, non penso più di questo perché leggo alcuni su Facebook che pensano che diventerà 81 e mi sembra un po' esagerato. Comunque, diventa sicuro oro, sicuro raro, più 5 nel tiro perché ha veramente una ping in quel sistema impressionante, 4 stelle bene debole se le merita, 4 stelle ski anche, grand dribbling 84 anche, resta un po' poco, buon passaggio 68 da 64 mi sembra giusto. Poi vabbè, difesa e testa, testa o diminuito perché proprio non mi ricordo un quattro d'essere in una stagione. Quindi, queste sono le mie reddizioni, ditemi nei suoi momenti cosa ne pensate, chi verrà upgradeato e chi downgradeato, ditemi i tipi del prossimo episodio e dite se piace la grafica e niente, noi ci sentiamo nel prossimo video. Bye bye!